Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Abbiamo pensato di organizzare questa conferenza stampa perché contestualmente all'informativa resa dal Ministro Alfano sulla telematica sbarchi alcuni colleghi del gruppo che sono qui presenti di fianco a me hanno deciso di andare ad appurare di persona a Lampedusa la situazione. Quindi parlando ovviamente con le istituzioni, la popolazione, le forze dell'ordine per avere una precisa ricognizione e diretta rispetto a questa situazione. Noi riteniamo che sul tema dell'immigrazione clandestina non si debba abbassare la guardia. E' stata una battaglia storica della Lega dove la Lega ha potuto dimostrare quando il Ministro degli Interni era Maroni che rispetto ai propositi si possono fare seguire anche fatti e risultati. I risultati conseguiti in questa lotta di contrasto avevano portato a decisioni, misure che avevano ridotto enormemente il numero dell'afflusso. Registriamo che con l'insediamento del nuovo governo con una correlazione quasi diciamo così matematica dopo le dichiarazioni del Ministro dell'Integrazione probabilmente un segnale diverso di lassismo è girato per il mondo e purtroppo come l'altro ieri puntualmente dichiarato dal Ministro Alfano i numeri degli sbarchi sono clamorosamente tornati a salire. Di fronte a questa situazione la preoccupazione è evidentemente altissima, altissima sicuramente tra chi ci ha votato, ci ha dato fiducia, ci ha mandato qua e quindi noi anche in relazione a futuri provvedimenti che sono annunciati e che in qualche modo pensiamo anche allo svuota carceri che riguarderà molto probabilmente e prevalentemente una popolazione carcerale estracomunitaria abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Quindi adesso ovviamente i qui presenti potranno ragguagliarvi rispetto alla situazione che hanno trovato una situazione che si è già tradotta in diverse circostanze anche nei centri di accoglienza in rivolte o tentativi di fuga che dimostrano come poi in realtà siamo lontani da persone che fuggono per motivi umanitari che in qualche modo accettano anche di sottoporsi in qualche modo alle regole e alle norme che il nostro paese si è dato. Io mi fermo qui dopo questa breve introduzione e darei la parola a chi è che vuole parlare, Bragantini che un po' ha guidato il gruppo che è stato a Lampedusa in questi giorni. Intanto ringrazio di essere venuti. Noi immediatamente abbiamo avuto andare di persona a vedere la situazione dopo questi giorni in cui si continuavano a arrivare notizie di sbarchi, anche di morti purtroppo che in alcuni car e in alcuni cie c'erano anche situazioni di tensione con rivolte e siamo partiti, siamo andati immediatamente a visitare uno dei punti più caldi che è quello di Lampedusa. Siamo arrivati ieri verso mezzogiorno e immediatamente alle due siamo andati al centro di primo soccorso. E stranamente o fortunatamente abbiamo visto che erano già cominciati il trasferimento di molti di questi clandestini in altre strutture, perché ricordiamoci che la struttura di Lampedusa può contenere neanche 300 persone erano arrivati a più di mille, con più di un centinaio di minori e donne in una struttura adibita a minori e donne di neanche 50 persone. Dunque, come ha detto anche proprio qualche ora fa, se vi decine, ci sono i bambini che dormono per terra su di materassi, dunque è una situazione non molto ottimale sia dal punto di vista psicologico ma anche soprattutto dal punto di vista sanitario. e abbiamo visto che finalmente erano cominciati, forse stranamente, forse fortunatamente, noi abbiamo detto che andavamo, abbiamo chiesto l'informativa, sono attivati immediatamente la dislocazione delle persone in altre zone. Abbiamo visto queste file di clandestini che stavano aspettando il loro turno, questi clandestini che erano seduti, molti erano seduti anche per terra, vedere dei bambini che erano, erano dei bambini che era un bambino, mi ha fatto l'impressione, un bambino di qualche mese appena arrivato, che per carità era bello perché aveva finalmente un sorriso, questo faceva piacere in braccio del papà, però vederlo lì in una situazione così non ottimale, perché erano veramente in una situazione non bella. Vedere che c'è una parte della struttura che potrebbe contenere altre 300 persone, dunque si potrebbero accogliere meglio, che è stata bruciata, come ricordate, qualche anno fa, che è ancora lì in stato di abbandono, e vedere veramente che, per carità, le forze dell'ordine e gli operatori si danno da fare, hanno il sorriso sulle labbra, sono veramente persone bravissime, che fanno anche straordinari non pagati, però la situazione non è normale. Vedere che, dopo, ci sarà il mio collega che è l'industria, perché dopo, oltre a vedere questo centro, che fa un po' colpo vedere, per chi non è abituato, parlare con le forze dell'ordine, con i vari comandanti, parlare con il sindaco, si è andati a parlare anche con il parroco, si è andati a parlare anche con gli operatori turistici, gli operatori del settore, e sentire la discrepanza di alcuni commenti, il sindaco che ci va a dire che è tutto a posto, invece gli operatori dicono, noi abbiamo paura che non arrivino i turisti, perché sembra quasi che qua l'isola è sotto assalto. L'isola non è ancora sotto assalto, però una situazione che dovrebbe essere gestita meglio, che dovrebbe veramente essere fermata gli sbarchi, come avevamo fatto con Maroni qualche anno fa, e infatti tutti i dati ci dicono che dopo gli accordi bilaterali che avevano fatto Maroni erano stati fermati i flussi, non c'era più questa emergenza, c'era una situazione di normalità, adesso si stanno ricominciando. Sentire che il ministro dell'integrazione dice grazie ai lampedusiani, per la loro pazienza, perché si integrano bene con questi clandestini, non è vero, perché i clandestini sono in una struttura chiusa, distante dalla città e dalle spiagge, i lampedusiani tentano di convivere con questa situazione, non hanno rapporti umani, perché non possono neanche andare a visitare il centro, dunque non so cosa abbia visto il ministro, sta facendo solo della mera propaganda in base alla sua ideologia, che non è un'ideologia giusta a nostro avviso, perché crea solo dei problemi. Io vedere dei bambini che sono lì, in una situazione di degrado, vedere che ci sono sacchi di immondizie fuori dal centro, mi ha dato molto fastidio, e dunque dare dei segnali, dire che venire in Italia si può, si deve, è un diritto, perché qua si starà bene, è sbagliato, soprattutto per loro, oltre che per noi. Dunque, veramente, noi chiediamo a questo governo, e saremo sempre attenti, che vengono fermati, gli sbarchi prima che partano, perché è un'altra cosa che veramente mi ha fatto specie, quando parlavamo sia con la Guardia Costiera, sia con la Guardia di Finanza, sia con la Capitineria, che molte volte, cosa succede? Che questi, che sono dei disperati, gli scafisti non vengono neanche sulle barche, gli mettono sulle barche persone che non hanno mai visto il mare, e gli dicono, mettete il timone verso quella direzione, e partite. Magari hanno la benzina, in teoria, per arrivare fino a Lampedusa, fino a Sicilia, ma questi che non hanno mai visto il mare, con dei barconi che si sfondano con un piccolo oggetto, perché sono veramente vetusti, vanno alla deriva, vanno ad essere disidratati, e rischiano veramente di morire delle persone. Dunque, se uno ha coscienza, bisogna fermarli prima che arrivino, in modo che non ci siano morti, in modo che non ci sia qualcosa che non possa andare male. E noi che abbiamo coscienza, vogliamo fermare questa tratta, vogliamo fermare questo arrivo di clandestini, che fa male, ribadisco, a loro, che sono persone umane, ma soprattutto, e anche, a tutti i cittadini, in questo caso in Lampedusa, ma anche nelle altre zone dello Stato italiano. E dopo, come hanno detto anche, delle associazioni umanitarie, non a noi direttamente ieri, perché ieri ci hanno spiegato semplicemente, come funziona il centro, ma proprio oggi, è inammissibile, che continuino ad arrivare a queste persone, e non ci sia una struttura adatta, e non ci sia l'Europa, che ci dia una mano, per fermare, o almeno gestire in modo ottimale. Non è possibile che ogni volta che c'è bel tempo, arrivano e vengono ammassati, e ci sono dei morti. Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non va. Ci hanno detto anche le categorie turistiche. Perché non ci si attrezza, che quando, se non riusciamo a fermarli, appena arrivano, li disloquiamo in zone differenti, in modo che non ci sia questo centro, questo ammassamento di persone, che può creare anche dei problemi sanitari. Perché è vero che vengono controllati immediatamente, almeno si fa un controllo visivo, un primo controllo, però ci sono anche delle malattie infettive, che si scoprono dopo qualche giorno, oppure hanno dei sintomi, non immediatamente identificabili. Dunque si possono creare dei problemi, con delle malattie, che ormai in Italia non si vedevano più, e magari all'inizio non si riconoscono, ma ci possono portare un'infezione, in tutti questi centri, e dopo magari, se qualcuno riesce a scappare, come purtroppo succede, anche portarlo nella popolazione, nella nostra popolazione. E ci sono tantissimi casi, ci sono casi, nei nostri ospedali, che sono ritornate alcune malattie rare. Più che rare, che erano scomparse. Dunque, io voglio solo ringraziare, le forze dell'Origo, sono bravissime, però veramente ci sono gravi mancavolezze, e soprattutto, abbiamo visto delle cose un po' particolari. Io lascerei la parola, al collega Prataviera, che, anche per dividerci un po' i compiti, illustrerà un po' gli incontri che abbiamo avuto con tutte le altre associazioni e le forze dell'Ordine. Grazie. Grossa parte delle audizioni, diciamo così, degli incontri che noi abbiamo avuto con le associazioni di categorie, il contenuto l'ha già espresso il collega Bragantini, ma credo che sia giusto sottolineare come chi lavora nell'isola, sia per garantire l'Ordine Pubblico, quindi le forze dell'Ordine, con le quali noi abbiamo avuto delle discussioni franche. Noi abbiamo visitato anche le sale operative, abbiamo visitato i mezzi, ci hanno spiegato le tipologie degli interventi, ci hanno, col comandante della Guardia Costiera, ieri abbiamo anche voluto chiedere come stanno gli uomini, perché vedono e vivono delle situazioni non augurabili a chi fa il loro mestiere. Immaginatevi cosa vuol dire soccorrere imbarcazioni totalmente alla deriva con uomini e bambini che non ci sono, non vivono più. Lì la situazione non va bene, come dicono. Le situazioni di categoria, quando leggono le affermazioni come quelle di oggi del Ministro, in cui dicono che gli abitanti l'isola hanno relazioni con i migrati, reagiscono in maniera negativa perché affermano che questo non è assolutamente vero ed è così. Gli immigrati sono relegati in una zona assolutamente distante dal centro, ma vengono trattati quasi nascondendoli. C'è una facciata a Lampedusa che è quella che vuole affermare a tutti i costi che le cose vanno bene, ma le cose a Lampedusa non vanno bene. Chi lavora, chi ci vive, chi crede in quell'isola che ha mille difficoltà, oggi abbiamo parlato con il direttore dell'aeroporto che ci raccontava che non ci sono voli praticamente in linea, i voli che ci sono, come ieri ci avevano detto, che invece erano aumentati, sono aumentati, o meglio, sono stati mantenuti quelli dell'anno scorso dei tour operator, quindi non voli per chi abita nell'isola e può raggiungere la terraferma. Abbiamo incontrato il parroco che ci ha dato una testimonianza importante, ci ha raccontato che lui all'interno ci va anche per motivi religiosi, va a tenere messa e con queste persone parla. Io credo che dovremmo iniziare a ragionare sul rischio che queste persone passano nel momento stesso in cui decidono di mettersi in mare senza avere nessuna capacità di condurre un mezzo che non è nemmeno adatto allo scopo che si propongono, cioè affrontare più di 100 miglia in mare aperto senza nemmeno saper leggere una bussola. Ci ha fatto poi impressione vedere un cimitero a cielo aperto delle imbarcazioni che sono lasciate lì senza praticamente controllo, nel senso che le forze dell'ordine fanno dei passaggi per verificare che la gente di fatto non porti la legna ma non è quello il problema. Lì le imbarcazioni devono essere rimosse. È un'isola che sembra quasi lasciata a se stessa il proprio destino. Quindi è chiaro che lo Stato c'è ma c'è perché ci sono gli uomini presenti lì che fanno gli straordinari lavorano quasi 24 ore al giorno perché di fatto è un servizio costante non retribuito e che veramente a cui noi veramente vogliamo ringraziare e dare tutto il nostro affetto perché la loro è una missione più che un lavoro. Soluzioni? Come dicevo dalla mia introduzione c'è una legge che si chiama legge Bossi che nel momento in cui è stata concretamente attuata certo con difficoltà credo che abbia dato dimostrazione di poter quanto meno fermare questo fermo tristissimo scusate ma qui credo che ci sia la conferenza di capigruppo il ministro Alfano sa bene perché era ministro di giustizia quando al ministro interno c'era Maroni come funziona la legge credo che una concreta applicazione della medesima in cui però mancano i presupposti in questo governo che deve ovviamente dare un colpo il cerchio in coppola botte possa in qualche modo dare un segnale diverso rispetto a quello di una integrazione sgangherata che è un po' il messaggio dato dal nuovo esecutivo con le prime dichiarazioni che non a caso andavano anche a parare su una revisione della legge Bossi Fini ogni legge è sicuramente ogni regolamento è sicuramente opportuno ma è il messaggio che si dà nei comportamenti e nella fermezza di un governo che più che altro dà un segnale a chi tra l'altro organizza questo traffico di carne umana se il messaggio è quello di lassismo purtroppo non c'è legge che tenga volevo aggiungere che il fenomeno va contrastato all'origine bisogna rafforzare bisogna fare in modo che ci sia un coordinamento più massiccio nelle operazioni di contrasto proprio alla stessa partenza di questi barconi cioè queste sono persone che si mettono in mano è bene ricordare senza sapere governare una barca quindi le operazioni di pattugliamento congiunto nelle coste nordafricane deve diventare un'operazione umanitaria che dovrebbe attirare l'attenzione di tutto il mondo perché queste sono persone che scappano ma come dicono loro perché poi ovviamente ci sono persone che scappano e delle persone che invece arrivano in maniera irregolare chi arriva in maniera irregolare per la maggior parte ci hanno spiegato che bene o male sanno come è fatto il mare il problema è che quando si mettono in mare aperto queste persone devono essere subito intercettate un metro dopo la costa questo lo dice chi lavora tutti i giorni non lo dico io lo dico quindi chi rischia tutti i giorni per andare a salvare le vite umane permettete solo su me il dato oltretutto che abbiamo visto visionando Lampedusa è che il governo sta mistificando la realtà cioè dire che non c'è una situazione emergenziale quando questa notte è stata fatta il ponte aereo continuo significa mentire alla popolazione mentire al paese dicendo che Lampedusa è tutto a posto e va tutto bene quando come ricordavano i colleghi in un centro ci sono circa quattro volte le possibilità di ospiti di alloggio di ospiti vuol dire che c'è qualcosa che non va e quando c'è un ministro come il ministro Chienge che utilizza scusate la parola però un estremismo ideologico io penso che ci siano delle responsabilità oggettive nell'illudere queste persone che in Italia potranno trovare il paese dei bengodi altra cosa che vorrei sottolineare che le persone che arrivano a Lampedusa sono a tutti gli effetti dei clandestini sono a tutti gli effetti dei clandestini perché chi dice che non è così dice una falsità perché sono persone a cui non è stata fatta alcun tipo di pratica per identificare se hanno diritto all'asilo politico e dunque chi dice che arrivano nel paese e arrivano perché scappano da guerra o da situazioni difficili non dice la verità per due motivi uno perché è molto particolare che dal Nord Africa facciano centinaia e centinaia di chilometri come ricordava ieri il collega Pini durante l'intervento per dopo arrivare in Italia in secondo luogo perché non c'è alcun tipo di certezza l'unico diciamo presupposto che si ha sono delle dichiarazioni fatte dalle stesse persone che sbarcano non avvallate da alcun tipo di documento quindi è chiaro che bisogna usare la dovuta cautela ma anche fare rispettare le regole del paese perché prima di tutto rispettare le regole vuol dire tutelare chi si appresta a fare questi viaggi della speranza e contrastare chi utilizza questi clandestini per un diciamo tornaconto personale i cosiddetti scafisti se posso aggiungere una considerazione a quanto detto dai colleghi noi siamo andati a Lampedusa proprio per lanciare un allarme preciso oggi la situazione è difficile è al collasso i numeri lo dimostrano un governo un governo serio non può limitarsi esclusivamente a gestire l'ordinario oggi si sta gestendo l'ordinario e lì lo si gestisce bene grazie alla preparazione alla competenza delle forze dell'ordine anche grazie a dei meccanismi che si sono consolidati in questi anni grazie alle politiche adottate dal ministro dall'ex ministro Maroni il problema è che noi vogliamo lanciare l'allarme perché se non si interviene immediatamente se il governo se il ministro Alfano se il governo tutto non interviene immediatamente ripristinando quelle politiche di rispingimenti di ripristino degli accordi internazionali con altri paesi il rischio è che questa situazione oggi gestita con grandi difficoltà possa esplodere per questo è necessario ed è l'invito forte e pressante che noi mandiamo al governo e al ministro Alfano di non limitarsi esclusivamente a gestire l'ordinario con la gestione dell'ordinario il numero di sbarchi che si stanno verificando oggi induce a pensare che da qui alle prossime settimane ai prossimi mesi questa situazione possa tornare a dei numeri che erano stati fortunatamente debellati con le politiche di contrasto e di accordi stipulati dall'ex ministro Maroni quindi l'invito forte che noi mandiamo è di ritornare e noi chiediamo quindi che si ritorni all'applicazione e al ripristino di quelle politiche che al di fuori del 2011 quando si verificarono i fatti legati ai conflitti nel nord d'Africa situazione difficilissima ma gestita comunque in modo ottimale al di fuori di quella parentesi complicata i numeri hanno confermato che grazie alle politiche di contrasto alle politiche ferme di cooperazione e di collaborazione con gli altri stati è possibile far sì che Lampedusa possa tornare ad essere un'isola turistica civile e vivibile l'altro appello che noi lanciamo oltre che al governo è all'Europa l'Europa non può lasciare il nostro paese sola ad affrontare queste situazioni emergenziali nella giornata di oggi il ministro Kjengesen ha dichiarato che bisogna favorire o comunque garantire chiunque voglia venire in Italia questo vuol dire porte aperte senza alcun tipo di regola è molto pericoloso per quello ho parlato di estremismo ideologico perché chi afferma che chiunque venga senza fare le normali procedure tutti quelli cittadini immigrato che vengono chiedono di arrivare e sottostando alla legge bossifini regolarmente vengono qua trovano un lavoro cercano di dichiararsi d'altro ma chiunque voglia venire vuol dire che chiunque clandestino sia qua noi dobbiamo dargli porte aperte e sono dichiarazioni molto molto pericolose grazie a tutti